Un nuovo appuntamento con In Primo Piano, ancora ben trovati su Radio Venere, Antonio Blefari con voi, con questa rubrica dedicata al territorio, ogni lunedì, mercoledì, venerdì al mattino alle 10.15, mentre al pomeriggio andiamo in onda alle 17.15. Oggi con noi abbiamo il Presidente del Movimento Politico-Culturale Nuova Calabria, che è il Dottore Bruno Squillaci, che salutiamo, ben trovato. Ben trovati a voi e grazie dell'invito. Chiaramente parliamo di quello che è il clima e la situazione che si sta vivendo a Bovalini, in linea generale cominciamo a capire un attimo voi cosa state registrando in questo momento tra la popolazione. Sì, intanto grazie, un saluto anche da parte mia a tutti i radioascoltatori e un ringraziamento ancora a Radio Venere che ci ospita ancora una volta. Le problematiche sono tante che i cittadini in questi giorni ci stanno segnalando e sono comunque le problematiche che sono all'ordine del giorno rispetto a quella che è la vita del Paese, dalla viabilità ai rifiuti, alla questione della depurazione, alla questione recente del campo sportivo che sta a cuore a gran parte della popolazione di Bovalino e della tifoseria della nostra gloriosa squadra, alle problematiche legate al dissesto. Quindi ci sono un bel po' di problemi sui quali bisogna tenere alta l'attenzione perché sono problemi che ci riguardano nel quotidiano. Qualcuno mi contestava che questi problemi andrebbero anche affrontati in Consiglio Comunale. Voi ultimamente avete fatto una protesta, non presenziando a diversi consigli comunali, voi ne avete due rappresentanti, come Nuova Calabria, eletti all'ultima elezione che sono appunto il capogruppo, la dottoressa Sandra Polimena e poi anche Gloria Versace. Sì, la nostra è una forma di protesta, abbiamo dovuto adottarla a malincuore perché ci è costato parecchio dover adottare questa forma di protesta, soprattutto nell'ultimo Consiglio Comunale dove sono stati nominati i garanti che avevamo proposto noi stessi, i garanti per l'infanzia e per l'adolescenza e per la disabilità, ma è una protesta che era necessaria per tenere alta l'attenzione e per reclamare quei diritti che i nostri consiglieri, presenti in Consiglio Comunale, ma a cui tutti i consiglieri vengono riconosciuti sia dal testo unico sia dai regolamenti di funzionamento del Consiglio Comunale, dai vari regolamenti comunali e che secondo noi su diversi aspetti c'erano delle mancanze dell'amministrazione, degli uffici rispetto alle nostre legittime richieste. Chi svolge il ruolo di consigliere comunale lo deve svolgere in maniera consapevole, deve poter acquisire la documentazione, deve poter acquisire notizie importanti rispetto a quelle che sono le problematiche da affrontare in Consiglio. Noi abbiamo documentato in una conferenza stampa le tante richieste in evase, perché si era anche detto che non esistevano, abbiamo sentito un'intervista del sindaco in cui diceva che non è vero che esistono delle richieste in evase, noi abbiamo fatto a posto una conferenza stampa documentandole una per una, facendo vedere tutte le richieste che noi abbiamo fatte e che riguardavano problematiche serie e importanti, abbiamo chiesto un Consiglio Comunale aperto anche su queste problematiche. La risposta è stata sempre la stessa, abbiamo sempre trovato un muro di gomma e quindi questa protesta a malincuore è stata attuata da Nuova Calabria proprio perché questi diritti vanno reclamati, perché senza la possibilità di accedere alla documentazione richiesta, avere le informazioni richieste, è difficile svolgere consapevolmente il ruolo del Consigliere Comunale, se poi uno vuole andare semplicemente ad alzare le mani e ratificare le decisioni che vengono prese altrove, allora uno può passivamente partecipare, ma noi non intendiamo svolgere il ruolo in questo modo, noi abbiamo ricevuto un mandato specifico dei cittadini e intendiamo portarlo a termine in modo consapevole con delle scelte rispetto alle quali la nostra conoscenza degli argomenti deve essere piena. Ma è rientrata o no? Quali sono stati i frutti di questa protesta se ci sono stati? Su alcune problematiche cominciamo ad avere delle risposte perché ovviamente sollecitando gli uffici, sollecitando l'amministrazione comunale, il segretario dell'ente, piano piano qualche risposta comincia ad arrivare, nel momento in cui acquisiremo tutta la documentazione necessaria, noi abbiamo anche la problematica della sede, abbiamo chiesto un ufficio, una stanza all'interno del Consiglio Comunale in cui i nostri consiglieri comunali possano ricevere legittimamente i cittadini, anche su questo stiamo facendo una battaglia, abbiamo chiesto la diretta streaming dei consigli comunali perché siamo convinti che è indispensabile per avvicinare la popolazione a quelle che sono problemi dell'ente, a dare la possibilità a chi lavora, a chi si trova fuori di poter seguire i consigli comunali, spesso sono in orari di ufficio, quindi avere una diretta streaming registrata dei consigli comunali può dare la possibilità a chi lavora al giorno, la sera quando torna a casa di potersi guardare il consiglio e di poter avere conoscenza di quelle che sono le argomentazioni e le problematiche del nostro paese, è una questione di trasparenza, noi a distanza di due anni non riusciamo a capire per quale motivo non viene concessa e non viene autorizzata sul portale dell'ente una diretta streaming che ha dei costi esigui, ormai basta una piccola attrezzatura e abbiamo messo a disposizione anche i gettoni di presenza a cui hanno rinunciato i consiglieri di opposizione per eventualmente acquistare la strumentazione necessaria, quindi non capiamo qual è l'ostacolo di un'amministrazione che professa il cambiamento, che professa la trasparenza, che professa la partecipazione dei cittadini e rispetto a questa nostra richiesta non riusciamo a comprendere come mai a distanza di due anni non viene concessa. Tema della viabilità sicuramente sentito, perché la cittadinanza soffre il fatto di dover fare così, evitare le buche, ne eviti una però ne becchi due, purtroppo è un dato di fatto, dispiace dirlo e sottolinearlo, spesso vieni tacciato, non vuoi bene al tuo paese quando racconti queste cose, ma è un dato di fatto. Ora sembra che forse si arriverà a questi benetti lavori che dovrebbero iniziare a breve per vedere dell'asfalto nuovo, fresco, diciamo che da parecchio tempo non si vede a Bovalino, speriamo, perché si parla di luglio, dovevano iniziare maggio, giugno. Sì, la problematica della viabilità è forse una delle problematiche principali, siamo già due anni dall'insediamento di questa amministrazione, ad aprile del 2018 c'è stata questa possibilità di accendere e di eccedere a questi fondi finanziati dal Ministero dell'Interno, rispetto ai quali molti comuni, anche dal nostro comprensorio, hanno partecipato, hanno avuto dei finanziamenti importanti, si potevano avere fino a 5 milioni e 225 mila Euro di finanziamento, anche in una sola annualità rispetto alle tre che erano previste. La nostra amministrazione dovrà andare su tutte e tre le annualità, perché sia nella prima sia nella seconda non si è riusciti ad avere in pieno i finanziamenti, quindi bisognerà ancora accedere alla terza. Tra i finanziamenti che sono stati concessi, una parte cospicua, circa 2 milioni di Euro, sono destinati alle strade del centro, più un'altra parte anche alle strade delle zone limitrofe, al centro urbano. I cittadini attendono questi lavori con molta ansia, perché è uno dei problemi veramente principali del nostro Paese, basta fare un giro, lo dicevi benissimo tu, non si tratta di fare delle accuse così giusto per farle, basta fare un giro nel nostro Paese per vedere come siano ridotte le nostre strade. Lo facevamo notare sui social l'altro giorno, l'ultima strada interamente asfaltata nel nostro Paese, la 24 maggio, con l'amministrazione allora in cui c'eravamo anche noi nel 2008, ed è stata l'unica strada, l'ultima strada che è stata asfaltata in oltre dieci anni. Quindi ovviamente sono dei lavori sui quali c'è un'aspettativa molto alta, anche perché interessano gran parte del Paese, una parte del Corso, la 24 maggio, la Garibaldi, la Fratelli Bandiera, la Via Dromo, quindi gran parte delle arterie del centro urbano sono interessate. Avete visto i progetti, chiaramente c'è qualcosa che vi preoccupa? Anche questo è stata una delle motivazioni della nostra protesta, perché noi abbiamo chiesto di poter vedere gli elaborati tecnici che a Bovolino sono stati presentati con notevole ritardo ai cittadini di Bovolino rispetto al periodo in cui sono stati poi realizzati. Non dimentichiamo che questo finanziamento è del 13 aprile del 2018, il decreto, c'erano 8 mesi di tempo da decreto per poter consegnare le opere appena di revoca del finanziamento, si sono impiegati 7 mesi e mezzo per affidare alla progettazione e solo 15 giorni per realizzare i progetti. Dopodiché non si è più avuta notizia, noi abbiamo chiesto copia degli elaborati tecnici e ci è stato risposto che bisognava appaltare all'esterno il servizio per digitalizzare gli elaborati tecnici quando già la presentazione alla stazione unica appaltante della città metropolitana prevede che vengano consegnati in formato digitale, quindi erano già disponibili, anche lì non riusciamo a comprendere per quale motivo non c'erano stati forniti. Questi lavori interessano, come dicevamo, gran parte del centro urbano e bisognerà stare molto attenti a vigilare perché intanto siamo in notevole ritardo rispetto a quello che era il cronoprogramma, i lavori sono stati giudicati in via definitiva oltre un mese fa, un mese e mezzo fa, abbiamo ascoltato una conferenza stampa nella quale è stato annunciato per il mese di maggio l'inizio di questi lavori, siamo quasi all'inizio di luglio, siamo alla fine di giugno, tra pochi giorni sarà luglio, ancora di questi lavori non c'è traccia, l'estate alle porte è praticamente iniziata, quindi non so come riusciranno poi a gestirli con una stagione estiva durante la quale sarà improponibile, penso bloccare le arterie principali del paese con dei lavori, dall'altra parte bisognerà necessariamente iniziare, ma questa problematica ci sarà anche nelle scuole, noi abbiamo due importanti finanziamenti all'interno di questo blocco che riguardano sia la scuola media dove ci sarà la demolizione della palestra alla ricostruzione e sia la scuola del borgo dove sarà costruito un altro corpo che sarà destinato alla mensa e ad un'altra aula, questi lavori secondo noi dovevano iniziare con un cronoprogramma che prevedesse l'inizio di questi lavori durante il periodo di sospensione delle lezioni, perché se ora questi lavori come presumibilmente noi pensiamo inizieranno a settembre, capirete bene che fare iniziare i lavori in concomitanza dell'inizio delle lezioni metterà nelle condizioni i bambini, molti disagi soprattutto nella scuola dell'infanzia dove i lavori sono adiagenti alle stanze proprio della scuola dell'infanzia dove ci sono dei bambini piccoli, quindi si sottoporranno tutti gli studenti a rumori, a polveri, a pericoli, quindi anche questo doveva essere programmato in modo diverso. La gara d'appalto mette nelle mani dell'amministrazione comunale anche una somma perché c'è un ribasso che consentirà anche di gestire cifre anche nello stesso settore, poi c'è anche il punto interrogativo, questo ribasso è eccessivo o meno. Il ribasso bisognerà stare molto attenti, la direzione dei lavori dovrà vigilare con molta attenzione perché ovviamente l'amministrazione su questo lo c'entra poco perché l'appalto è stato gestito dalla stazione unica appaltante, però c'è un ribasso che è abbastanza corposo e di circa il 38%, quindi bisognerà stare attenti e vigilare affinché i lavori vengano eseguiti in modo perfetto perché Bovalino di queste opere ha bisogno, noi tifiamo per la realizzazione delle opere, noi quando stavano per scadere i 7 mesi, gli 8 mesi abbiamo fatto una protesta, abbiamo scritto, ma perché noi il nostro auspicio è che questi lavori vengano realizzati nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi perché Bovalino ha bisogno di queste opere, noi tifiamo per la realizzazione delle opere, non perché queste opere vadano perse, questo è importante chiarirlo perché ogni volta sembra che ci sia questa contrapposizione tra amministrazione e gruppo di opposizione che remano in direzioni diverse. Anche perché questo treno è difficile che ripassi? No, assolutamente, sono quelle opportunità, io credo che negli ultimi 30 anni, un'opportunità del genere che è andata a finanziare i comuni indebitati, cioè paradossalmente questa amministrazione addossa al passato, all'amministrazione del passato, la responsabilità di una situazione economica difficile e paradossalmente quella situazione economica difficile è stato l'indice che ha consentito di ottenere questi finanziamenti, perché questi finanziamenti, non dimentichiamolo, erano destinati a quei comuni in difficoltà economica, quindi più era alto l'indice di indebitamento e più si andava alto in graduatoria, infatti ha causato la protesta di molti comuni del nord, l'Ance Lombardia ha fatto una protesta vibrata perché in pratica tutti i comuni virtuosi del nord sono finiti in coda alla graduatoria, quindi questa è un'opportunità più unica che rara che non va assolutamente persa. Peccato anche che non si sia sfruttata appena, viene da parlare, ma poi un discorso che approfondiremo magari più avanti, quello relativo al Cartisana, al campo sportivo, perché magari si poteva sfruttare appena l'opportunità e cercare di indirizzare dei fondi, sembra che forse non ci sia la possibilità in quanto il campo ha subito dei finanziamenti, però un discorso che approfondiremo tra poco. Un altro tema che è stato a cuore, avete accolto anche tante segnalazioni da parte dei cittadini, è quello relativo alla gestione dei rifiuti e anche delle raccolte indifferenziate, il servizio di logro di ambiente che qualche problemino sta... E' un altro delle principali problematiche, il discorso della raccolta dei rifiuti, ripeto anche qui, anche in questo caso non stiamo facendo demagogia, basta andare sui social, basta leggere, oramai abbiamo questa finestra aperta su Bovalino che è costituita da Facebook, tutte quelle che sono le lamentele, basta andare sui social e si trovano anche documentate con fotografie, con descrizioni dettagliate, noi stiamo subendo in questi giorni notevoli di servizi da parte del gestore del servizio e questo purtroppo causa delle difficoltà alle famiglie perché in questo periodo, soprattutto penso ad esempio alla gestione dell'umido, quando l'umido non viene raccolto nei giorni che è programmato, durante l'estate capite bene quale difficoltà può creare alle famiglie, dover poi ritirare l'umido e consegnarlo di nuovo dopo il giorno dopo, dopo due giorni, quindi sono delle problematiche che sono all'ordine del giorno e importanti anche rispetto a quello che è l'appalto, noi stiamo parlando di un appalto che in cinque anni costa al Comune oltre 3 milioni di Euro, quindi su questo bisognava stare molto attenti anche perché gli obiettivi della raccolta differenziata che è partita in notevole ritardo, questa amministrazione se l'è trovato il bando della raccolta differenziata, ho letto in un'intervista in cui si diceva che grazie a noi è partito il servizio della raccolta differenziata e oggi paghiamo in me qualcosa in meno rispetto al massimo, non stanno esattamente così le cose, perché questa amministrazione quando si è insediata già il servizio della raccolta differenziata era stato avviato ed è stato poi effettivamente fatto partire con notevole ritardo perché da giugno del 2017 la differenziata è partita a primavera in oltrata del 2018, quindi si è perso un anno, se poi teniamo conto che nel capitolato d'appalto al 31 dicembre del 2018 bisognava raggiungere il 55% di raccolta differenziata e nel corso di questi due anni il Sindaco prima ci ha annunciato a ottobre del 2018 un posto in cui eravamo al 46%, 47%, poi siamo scesi nell'ultimo posto di un mese fa al 41%, non si capisce invece di andare avanti e torniamo indietro, ma sicuramente rispetto ai dati ufficiali non siamo arrivati al 50% nell'anno 2018, saremmo dovuti arrivare al 55%, ma arrivare al 50,1% avrebbe significato avere una tariffa per l'anno 2019 notevolmente inferiore per il conferimento dei rifiuti in discarica che non avremo e quindi questo probabilmente ha causato già nell'anno 2019 un aumento dei costi che per la maggior parte graverà sulle attività commerciali e per una parte anche sui cittadini, avviando per tempo la racconta differenziata e raggiungendo gli obiettivi che erano previsti all'interno del capitolato d'appalto, nell'anno 2019 avremmo pagato notevolmente in meno, in più nell'anno 2018 vedremo quello che verrà fuori perché noi riteniamo che le somme che sono state stanziate per pagare il conferimento in discarica non siano sufficienti e quindi se questo poi verrà confermato, ma lo vedremo tra qualche tempo, noi intanto lo segnaliamo, probabilmente si genererà anche un debito fuori bilancio per il pagamento del conferimento in discarica integrale perché le somme disponibili in bilancio secondo i nostri calcoli non saranno sufficienti, questo vedremo cosa succederà, noi intanto lo segnaliamo, queste sono le problematiche a cui bisogna dare attenzione perché amministrare lo fa chiunque, cerca di farlo chiunque, noi a questa amministrazione non abbiamo mai rimproverato la mancanza dell'impegno, io ci tengo a ribadirlo in questa trasmissione perché il clima che si è creato è un clima di scontro che non va bene, non va bene per Buvalino perché ripeto chiunque delle tre liste avesse vinto l'obiettivo principale penso di ognuno di noi era quello di creare qualcosa di buono per Buvalino, quindi l'obiettivo deve essere comune, se noi su qualcosa come è stato nell'occasione del dissesto, quando abbiamo offerto la nostra totale disponibilità a ragionare insieme all'amministrazione e a trovare delle possibili soluzioni alternative al fallimento del nostro Paese, abbiamo trovato un muro di gomma, malgrado la disponibilità del capogruppo di maggioranza dall'altra parte ci è stato detto no e hanno dichiarato il dissesto in poco più di sei mesi dandoci i tempi tecnici di una settimana per poter analizzare una documentazione corposa che loro hanno analizzato in sei mesi, noi abbiamo avuto neanche una settimana e era una documentazione anche carente rispetto ad alcune cose che servivano per poter fare un'analisi dettagliata di quella che era la situazione, abbiamo riscontrato dei punti critici che poi si sono rivelate tali, abbiamo detto rinviamo solo di un mese, anche solo di un mese, facciamo una commissione con dei soggetti esterni che siano imparziali anche rispetto alle posizioni delle singole, perché secondo me è stata una scelta per lavarsi le mani, noi abbiamo messo una slide con Ponzio Pilato, per lavarsi le mani rispetto al passato, un passato che però interessa anche questa amministrazione, ogni volta si dà la colpa al passato. Ma potevano anche accogliere la vostra richiesta, attendere qualche giorno in più e fare la stessa cosa? Ma magari, ripeto, incontrandoci con i nostri consiglieri, ovviamente con i consiglieri di Nuova Calabria e con anche soggetti terzi che potevano essere investiti nella problematica, esperti del settore, fare una commissione specifica su questo, analizzare le carte insieme, valutarle insieme, trovare una possibile soluzione nell'interesse del Paese, ripeto, dopodiché se le carte, carta canta si suol dire, se le carte ci avessero portate in quella direzione, cioè di valutare che non c'era un'alternativa diversa, magari avremmo votate insieme alla maggioranza anche alla dichiarazione del dissesto, però con gli occhi aperti, consapevoli di quelle che erano le problematiche. Noi abbiamo un'amministrazione che ha dichiarato il dissesto con un bilancio che ha presentato alla chiusura dell'anno 2018, 4 milioni di euro circa dell'anno 2017, 4 milioni di euro circa di fondo di cassa che sono stati riportati anche nell'anno successivo, nell'anno 2018, non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi 5 anni, l'anticipazione di tesoreria è come il fido per le famiglie, se una famiglia non attinge mai a un fido vuol dire che non è in difficoltà di liquidità, ha sempre pagato gli stipendi ai dipendenti, non solo gli stipendi ma addirittura anche le indennità accessorie, non ha mai avuto problemi con il patto di stabilità, il Comune di Bovolina ha dichiarato un dissesto con dei parametri che facevano pensare tutt'altro a una misura dell'equilibrio, alla rimodulazione del piano dell'equilibrio che era secondo noi la strada da perseguire. Va bene, ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, poi chiaramente avremo la seconda parte per approfondire anche gli altri argomenti, ricordiamo che siamo con il Presidente del Movimento Politico-Culturale Nuova Calabria, Bruno Squillaci, dottore Bruno Squillaci, io lo chiamo Bruno perché è inutile, insomma ci conosciamo, quindi ci fermiamo, ci fermiamo altrimenti la regia ci taglia anzitempo, quindi torniamo tra pochissimo. Proseguiamo il nostro appuntamento con in primo piano una finestra sul territorio con questa rubrica che va in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 10.15 al mattino, poi in replica al pomeriggio a partire dalle 17.15. Oggi ospite qui in studio il dottore Bruno Squillaci del Movimento Politico-Culturale Nuova Calabria, stiamo parlando un po' dei problemi che Nuova Calabria ha più volte così evidenziato attraverso comunicati, anche attraverso proteste, qualche volta anche criticate, vedremo poi, insomma, rientrete presto in consiglio? Se le cose vanno come noi auspichiamo, le richieste che abbiamo fatto verranno esaudite, sono richieste legittime, non ci sarà nessuna difficoltà a tornare in consiglio comunale, è lì che noi vogliamo fare politica, però è lì che devono metterci nelle condizioni di poterla fare. Sì, auguriamo anche che la cittadinanza si avvicina e si attenta, anche perché è importante questo. Ma su questo, ripeto, la diretta streaming è fondamentale, perché gli orari dei consigli comunali spesso sono alle 9 del mattino, 9.30 del mattino, ognuno lavora, non può lasciare il lavoro per andare a seguire il consiglio comunale. Fare la diretta streaming dei consigli, lasciare la registrazione sul sito del comune, sul server, consente ai cittadini di potersi informare e di poter partecipare a quella che è la vita amministrativa del Paese. Ripeto, noi non comprendiamo ad oggi, qualcuno ce lo dica, per quale motivo non viene autorizzata la diretta dei consigli comunali e la registrazione di tutte le sedute. Richieste che avete fatto da… Abbiamo protocollato all'ente in una delle prime occasioni, circa due anni fa, mettendo a completa disposizione del Consiglio la nostra partecipazione rispetto all'approvazione del regolamento, dell'autorizzazione, di tutto ciò che era necessario, ma mettendo anche a disposizione i fondi derivanti dalla rinuncia all'indennità di carica dei consiglieri di opposizione, dell'indennità di funzione, per l'acquisizione della strumentazione necessaria. Più di questo non sappiamo cosa fare. Andiamo avanti e abbiamo trattato anche l'argomento rifiuti e andiamo anche, rimanendo in tema dell'ambiente, anche su quello che è il depuratore consortile, croce e delizie, più croce che delizie a dire il vero. Negli anni ha creato sempre problemi, un impianto faraonico che ha visto diverse vicissitudini, anche il procuratore della Repubblica si è dovuto occupare di questo impianto, ha avuto un finanziamento di ben 1 milione e 200 mila euro da parte della regione, ha fatto dei lavori di potenziamento, però sembra che qualcosa ancora non stia funzionando. Sì, anche su questo argomento bisogna affrontare le cose con la dovuta cautela, non si vuole creare assolutamente allarmismo, non si tratta di parlare di mal inquinato, di andare a denigrare quelle che sono le potenzialità turistiche del nostro paese, assolutamente nessuno di noi vuole questo, quello che noi chiediamo, quello che i cittadini chiedono, quello che credo sia interesse di tutti è tenere alta l'attenzione su una problematica che va a toccare una delle bellezze, delle risorse naturali che noi abbiamo che è il mare, che va preservato in tutti i modi possibili, è un obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti insieme e non dobbiamo avere paura di affrontare questo problema, non si tratta di nascondere le cose e dire che i problemi non ci stanno o di andare a trovarli quando non ci stanno, si tratta semplicemente di tenere alta l'attenzione su un problema che l'amministrazione attuale, la precedente, quella che è venuta ancora prima, si sono ritrovati perché non ci dimentichiamo che questo è un impianto che è stato calato dall'alto, probabilmente progettato male, pensato male perché pensare di portare la fognatura da Benestare a Buvalino con delle pompe di sollevamento tra Benestare a Buvalino che già ha un notevole dislivello, spingerla poi a bianco, passando da due fiumare importanti come il Careri e il Buon Amico, passando dagli scavi archeologici di Casignana e portarla fino a bianco, credo che sia stata un'idea totalmente sbagliata, sarebbe stato più logico fare dei depuratori consortili ma in comuni dove questo poteva essere fatto, tra esempio tra Buvalino, San Luca e Benestare, Careri, cioè comuni che si trovavano in linea d'aria e quindi era più semplice realizzare un impianto consortile con costi inferiori e con una funzionalità migliore. Si è scelto una strada diversa e si sta perseguendo, si sta continuando a perseguire la stessa strada che secondo me porta solo ad avere uno spreco di risorse. C'è un nuovo protocollo di intesa, come lo giudicate? Questo credo che sia uno dei punti principali nevralgici perché nell'anno 2017, subito dopo l'insediamento dell'amministrazione comunale, questo protocollo era già stato firmato, era stato firmato dai commissari prefettizi che c'erano allora, era stato firmato questo accordo di programma con la Regione Calabria che prevedeva l'intervento come effettivamente poi c'è stato della Regione per i lavori messi in funzione. Mi riferivo all'ufficio unico. E qua ci stiamo arrivando perché l'unico impegno quasi che veniva lasciato ai comuni era la costituzione di questo benedetto consorzio, di questo accordo tra i comuni per la gestione dell'impianto consortile. E qui secondo me è il problema perché noi durante la gestione della Regione Calabria che ha affidato i lavori di manutenzione a una ditta esperta del settore con delle professionalità molto valide, durante quel periodo lì abbiamo visto che l'impianto è stato rimesso in funzione e è stato sorvegliato quotidianamente perché è un impianto che richiede una manutenzione continua. Questa è la problematica vera perché per la tipologia di impianto attraverso due fiumare molto importanti ci sono diverse pompe di sollevamento, cioè è un impianto che richiede una particolare manutenzione e una particolare attenzione. Nel momento in cui c'è stata una ditta che ha curato esclusivamente questo le cose sono andate bene. Nel momento in cui è scaduto l'appalto che era stato dato alla ditta e è tornata la palla nelle mani dei comuni, lì sono sorti i problemi. E' stato approvato questo accordo a cui facevi riferimento, questa convenzione e anche lì è stato uno dei motivi nostri della protesta perché è stata portata in consiglio comunale senza allegare un atto fondamentale che era la quantificazione dei costi per la gestione del servizio da parte che aveva fatto la regione Calabria. I consiglieri comunali di opposizione in consiglio comunale hanno rilevato la mancanza di questo documento fondamentale, hanno rilevato poi che c'erano delle criticità, il voto del comune di Bovalino che sopporta quasi il 50% del costo della manutenzione dell'impianto vale quanto è il voto ad esempio del comune di Casignana che invece partecipa in una piccola parte. Quindi abbiamo sollevato delle criticità, delle problematiche che dall'altra parte hanno trovato ancora una volta il muro di gomma dell'amministrazione che ha detto in consiglio comunale no, la convenzione è questa, l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo ideata noi, anche se vi concediamo il rinvio perché non avevamo allegato la documentazione e alla fine l'hanno ammesso, anche se vi concederemo un breve rinvio sarà sempre questa la convenzione. Non si può spogliare il consiglio, non si può delegittimare l'attività dei consiglieri comunali che hanno il diritto rispetto ad atti di pertinenza del consiglio comunale che vanno approvati in consiglio comunale nel diritto di apportare degli emendamenti migliorativi rispetto a quella che è la convenzione che viene sottoposta, altrimenti la funzione dei consiglieri viene relegata alla semplice ratifica delle decisioni prese da altri, non funziona così un consiglio comunale. La convenzione c'è però sembra già ci sia rimpalli di responsabilità uno sull'altro. Che quando non c'è una, la problematica principale è responsabilità, questo non si fa perché c'è questa situazione in questo comune, quest'altra cosa non si fa. E certo, perché questa problematica veniva superata nel momento in cui c'era un unico soggetto che si occupava della gestione dell'impianto e che interveniva dove era necessario, con la partecipazione poi in quota parte dei comuni rispetto agli interventi, questo al momento non c'è e le problematiche cominciano ad emergere, anche qui non vogliamo creare allarmismo, ma non vogliamo neanche bendarci gli occhi, anche se dovessimo bendarci gli occhi e rimane il naso aperto, basta farsi una passeggiata anche qui, passare in questi giorni dalla Torre della Fiumara a Careri e si sente un odore nause e bondo, penso, credo che lì qualche problema ci sia, ora non voglio per carità assolutamente dire che il depuratore non sta funzionando o altro, però queste domande dai cittadini dobbiamo farcele, se c'è qualcosa che non va è giusto che si intervenga, è giusto trovare il sistema per intervenire nel più breve tempo possibile, intervenire è bene perché ripeto, la salvaguardia del mare, la salvaguardia di una risorsa così importante per il nostro turismo è fondamentale a costo di qualsiasi sacrificio, noi durante l'estate abbiamo diverse attività commerciali che lavorano grazie al turismo che si crea in questo periodo e quelle vanno salvaguardate nel migliore dei modi possibili, lo sforzo di tutti deve andare in quella direzione, non si tratta, ripeto, di creare allarmismo ma di prevenire eventuali problemi che possano portare all'ordenanza di divieto di balnazione come è stato negli anni scorsi che ha causato notevoli danni economici anche ai nostri operatori, per fortuna non c'è, infatti abbiamo detto non creiamo allarmismo, non parliamo di mare inquinato, diciamo solo teniamo alta l'attenzione su un problema serio. Assolutamente. Campo sportivo, il cartisano di Bovalina è un tema che sta crescendo nelle ultime giornate perché la Bolinese sta attraversando una sorta di crisi, si sta cercando di rifondare quella che è la società e chiaramente la disponibilità di un impianto adeguato ora comincia a essere a pesare nella ricostruzione di questa società, non è l'unico tema per carità, però effettivamente non avere un impianto a disposizione degno di questo nome e poi del nome che porta di cartisano, va sempre sottolineato perché è una struttura purtroppo oramai abbandonata da troppo tempo con qualche problema di troppo, sembra non si possa accedere ad alcun finanziamento perché almeno le normative attuali in qualche modo coinvolgono sempre le casse dell'amministrazione comunale, forse questo è uno dei primi effetti che si hanno anche, tornando al discorso del dissesto perché chiaramente non si può esporre l'ente da questo punto di vista e quindi non può accedere al credito. Sì, anche perché i lavori di ristrutturazione che sono appunto oggetto delle problematiche che conosciamo nascevano proprio da un mutuo, questo finanziamento è interessato tre amministrazioni comunali e due commissioni prefettizie, è partito nel lontano 2003 con l'amministrazione allora Carpentieri che aveva ottenuto questo finanziamento tramite il credito sportivo con un mutuo parzialmente a carico del comune e parzialmente a carico della provincia di Reggio Calabria, quindi era stato acceso un mutuo, cosa che oggi con il credito sportivo, cosa che oggi appunto in conseguenza del dissesto non può essere fatta e sulla questione del campo sportivo si è scritto e si è detto di tutto, ma è una problematica importantissima, non importante, uno perché ogni volta che parliamo di sport, diciamo che lo sport deve essere lo strumento per togliere i ragazzi dalla strada, per tutelare le fasce deboli, per parlare di legalità anche legata alle attività sportive, queste cose poi dobbiamo essere conseguenti e dobbiamo far sì che si possano realizzare, la mancanza di una struttura sportiva adeguata è un ostacolo principale affinché queste tematiche possano essere effettivamente portate all'attenzione della cittadinanza. Sullo stadio bisognerebbe fare un po' di chiarezza, innanzitutto come dicevi tu perché questo stadio è intitolato a un nostro illustre concittadino vittima della criminalità organizzata e quindi credo che è giusto rendere onore al ricordo di un cittadino che Bovalino ricorda con tanto affetto e questo io lo metterei al primo posto. Al secondo posto, ripeto, c'è da tenere conto di una squadra gloriosa, di una storia gloriosa della Bovalinese ed è una dirigenza che si è fatta carica in questi anni con enorme sacrificio di portare avanti e di riportare la Bovalinese nelle categorie che gli competono e quindi è giusto che ci sia chiarezza per la storia di Bovalino, per i dirigenti, per i tifosi, per i cittadini di Bovalino, per lo staff tecnico della Bovalinese che è stata ma anche di quella che sarà, noi sappiamo che è stato, ho raffidato l'incarica al dottore Federico di ricostruire un po' la dirigenza, ma è giusto anche nei confronti di questa nuova dirigenza essere chiari. Le problematiche dello stadio sono nate nel 2015, quando è venuto fuori, sotto la gestione commissariale, sono venute fuori queste problematiche riguardanti l'agibilità dello stadio, ma sono delle situazioni paradossali, perché a distanza poi la Bovalinese nel 2015, dal 2015 poi è stata costretta ad emigrare e nel 2017 con l'avvento di questa amministrazione, è stato poi dato un incarico, le problematiche ricordiamo erano quelle della mancanza del giunto tecnico negli spogliatoi, nella tribuna, nella nuova parte della tribuna e poi negli spogliatoi c'erano. Problematiche relative ai calcoli. A dicembre del 2017 poi guarda caso, l'incarico è stato dato il 22 dicembre e il dissesto è stato dichiarato il 23 dicembre, quindi il giorno prima della dichiarazione del dissesto il comune che ha dichiarato il dissesto era nelle condizioni di affidare anche all'esterno un incarico per poter svolgere tutte le attività necessarie a rimuovere le problematiche che erano state riscontrate. Questo a dicembre del 2017, a distanza di sei mesi, dopo due anni e mezzo in pratica da quando il problema è sorto, è venuto fuori che togliendo un semplice intonaco è spuntato fuori il giunto tecnico degli spogliatoi, quindi già qui siamo al primo paradosso perché è una situazione assurda che una problematica sollevata anche interessando la Prefettura, la Procura, a un certo punto semplicemente togliendo dell'intonaco si è trovato col giunto tecnico che era stato uno dei motivi per cui non era stata data l'agibilità. Rimaneva il problema sulla tribuna? Rimaneva il problema sulla tribuna e qui sorge la domanda, in due anni di amministrazione nuova, noi non siamo ancora noi, noi cittadini, la dirigenza, la tifoseria, non sappiamo, non conosciamo qual è l'entità dei lavori per rimuovere questa problematica relativa alla tribuna, perché se sono poche migliaia di Euro si potrebbe pensare di trovarla all'interno del bilancio, di rimuovere definitivamente questa problematica e quindi di poter avere l'agibilità dello stadio. Se è un importo più consistente bisognerebbe trovare le forme di finanziamento adeguate tenendo conto che è impossibile per le problematiche che abbiamo detto, attingere a un mutuo, a un nuovo mutuo. Però dobbiamo anche capire rispetto a quella che è la situazione generale dello stadio che non ha solo i problemi dell'agibilità, è uno stadio ormai una struttura fatiscente che anche in altri punti presenta delle carenze, quindi bisognerebbe capire nel complesso se ci sono le condizioni per rimettere in sesto questo stadio, per rimetterlo in piedi, ma soprattutto capire qual è l'entità. Noi oggi a distanza di due anni ancora non abbiamo contezza di questo, nessuno ci ha detto quello di questo. Anche voi una soluzione per attingere a qualche finanziamento? Perché di finanziamenti vi ha detto che sono arrivati tanti, copiosi, ora torniamo ai famosi 4 milioni e 6 di prima. Bisognerebbe chiederlo all'amministrazione per quale motivo si è pensato, perché in questi due anni, ripeto, tra varie congiunture astrali favorevoli ci sono stati diversi finanziamenti a cui è stato possibile cedere. Bisognerebbe chiedere all'amministrazione come mai sul cartesano non si è fatto nulla, perché se noi avessimo vissuto due anni di cinghia stretta in cui non c'era la possibilità di avere finanziamenti, allora bene, ce ne facevamo una ragione, però noi spesso sentiamo dal sindaco che abbiamo ottenuto questo finanziamento, abbiamo ottenuto questo altro finanziamento, anche importanti, sul cartesano un po' di attenzione in più ci poteva essere. Io non credo che la problematica sia relativa al fatto che sia stato già finanziato con questo intervento del credito sportivo, anche perché l'ultimo finanziamento, quello del Ministero dell'Interno, se non erro, faceva l'unico ostacolo, era il fatto di essere un'opera totalmente finanziata da altri soggetti. In questo caso non mi pare che ricorrono queste condizioni, però è l'amministrazione che dovrebbe fare chiarezza su questo. Il sindaco la problematica la conosce, in quanto il collaudo di questa opera, paradossalmente, è stato fatto nel 2011 quando l'attuale sindaco era vicesindaco, quindi non è una problematica che si può addossare sempre, anche questa storia di addossare i propri problemi sempre alle precedenti amministrazioni. Dobbiamo un pochino sgomprare il campo, sono passati due anni dall'insediamento di questa amministrazione, io sono stato pure amministratore del comune di Buvalino, però se teniamo conto degli ultimi dieci anni, dal 2009 al 2019, sono stato un anno, l'attuale sindaco è stato su dieci anni, sette anni amministratore, dei quali due anni vicesindaco, due anni sindaco e tre anni consigliere di opposizione e nei tre anni successivi c'è stata la commissione, nei due anni e mezzo successivi, quindi io credo che non si possa sempre dare la responsabilità agli altri, bisogna avere un pochino anche la capacità di assumersi la responsabilità rispetto alle problematiche e di trovare le soluzioni, perché ai cittadini quello interessa, quello che c'è stato in passato è stata interessata l'autorità giudiziaria, le indagini faranno il loro corso come è giusto che ci sia, se ci sono delle responsabilità è giusto che vadano accertate, però rispetto a quelle che sono le reali problematiche l'amministrazione deve fare definitivamente chiarezza e dire in questi due anni cosa è stato fatto, perché ho l'impressione che gli interventi che sono stati fatti nel 2018 per far sì che la bovolinese a settembre potesse ritornare a giocare, si potevano fare tranquillamente nel 2017, perché se il giunto tecnico degli spogliatoi c'era, come poi è stato rilevato che c'era, i lavori sono consistenti nel sostituire la rete di recensione nei piccoli lavori di manutenzione dello spogliatoio, non capisco perché si è dovuti riaprire lo stadio nel 2018 e non nel 2017, si vuole addossare ad altri la responsabilità dei mancati incassi degli anni precedenti, chiediamo anche all'attuale amministrazione per quale motivo ha mandato un anno fuori alla squadra senza un'apparente motivazione utile. Va bene, vedremo le evoluzioni, ci auguriamo che la bovolinese possa giocare al cartisano e che il cartisano possa presto usufruire dell'opportunità di essere messo a modernato davvero. Ma è quello che ci auguriamo tutti, perché se venisse fuori che la cifra necessaria per sistemare definitivamente le problematiche che sono state sollevate esigua, capisce bene che sarebbe veramente imbarazzante. Diciamo, riferendoci alla tribuna vediamo, poi chiaramente ci sono lavori come avere anche un manto erboso insintetico. E lì bisogna attingere, è quello che dicevamo, capire quali sono le eventuali difficoltà per poter attingere finanziamenti, ma se si tratta di mutui sicuramente il dissesto, ma se si tratta di altro dovremmo capire quali sono le cause ostative, ad esempio ad attingere uno dei finanziamenti della Regione Calabria, della città metropolitana, dei PON, noi abbiamo avuto delle cittadine che hanno costruito e hanno ristrutturato gli stadi attingendo i PON di sicurezza, legando la legalità, come si è sempre detto, all'attività sportiva. Va bene, il nostro tempo a disposizione è davvero finito. Grazie a Bruno Squillaci, dottore Bruno Squillaci, Presidente del Movimento Politico-Culturale Nuova Calabria per essere intervenuto, ci saranno altre occasioni, magari vedremo di sentire anche gli altri componenti in prossime occasioni, come anche ospiteremo per carità impegni e partecipazione, non so, avete fatto pace? Non c'è stata mai guerra, sono semplici divergenze, come è giusto che ci siano, del resto se abbiamo fatto liste diverse vuol dire che non c'era una piena unità di intenti, di vedute rispetto a quelle che erano le scelte da fare, con l'altro gruppo ci confrontiamo spesso, in alcuni casi abbiamo attuato delle azioni in sinergia di comune accordo, su altre cose invece, come credo che è normale che sia, avevamo dei punti di vista differenti, però i rapporti permangono buoni, come per quanto ci riguarda devono essere buoni anche con l'amministrazione, io vorrei sfatare veramente questo problema, non si tratta di personalismi, di problemi tra noi e il sindaco, un assessore, si tratta dei problemi di Buvalino, di fronte ai problemi di Buvalino io credo che nessuno si debba risentire se un gruppo di opposizione solleva legittimamente delle problematiche, proponendo anche delle soluzioni, si lavora così, non ci vogliamo sostituire all'amministrazione, ma vogliamo fare un'opposizione costruttiva, e vogliamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare, tutto qui. Grazie a Bruno Squillaci. Grazie ancora, un saluto a tutti voi e alla prossima.